Una software sviluppato per migliorare lo scambio di dati raccolti in un'area emergenziale in seguito a un terremoto. Il progetto di protezione civile coordinato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato presentato oggi all'Istituto Superiore Antincendi di Roma. L'obiettivo è quello di ridurre il tempo di intervento, specialmente nella prima fase di un'emergenza. Allora sentiamo il direttore centrale per l'emergenza dei Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti. Prometheus è un sistema che tende a dare una risposta in termini di ottimizzazione dei tempi e gestionali di quelle che sono le attività di primo intervento in quelle prime ore in cui abbiamo la possibilità di trarre in salvo delle persone che sono rimaste vittime di crolli a seguito di terremoto.